L'amministrazione provinciale di Brindisi rinnova il proprio consiglio. Dalle 8 di questa mattina e sino alle 20, 356 consiglieri comunali dei 20 comuni del Brindisino voteranno per le nuove assise. Non si elegge invece il nuovo presidente. Il mandato di Toni Matarrelli, se dovesse essere riconfermato alla guida del comune di Mesagne, anche nelle amministrative della prossima primavera, scadrà nel 2026. Tre le liste in lizza, due del centrosinistra, che manterrà la maggioranza del consiglio, governando nel maggior numero dei comuni, e una del centrodestra. Impegno per la provincia di Brindisi fa riferimento allo stesso presidente Matarrelli e comprende sindaci e consiglieri che orbitano nell'area di centrosinistra con movimenti civici. La seconda lista è quella del centrosinistra più tradizionale, legata ai partiti, in particolare PD, Socialisti e Movimento 5 Stelle. Una sola lista per il centrodestra, che mantiene al proprio interno anche una parte dei movimenti civici, oltre ai partiti Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega e Udc. 33 in tutti i candidati per i 12 scranni da assegnare. Nella consigliatura uscente, il centrosinistra aveva la maggioranza di otto consiglieri rispetto ai quattro esponenti dell'opposizione di centrodestra. Lo spoglio inizierà questa sera alle 20.45.